Ci troviamo sulla sommità del Celio, uno dei sette colli di Roma fin dalla sua fondazione e che all'origine doveva chiamarsi Querquetulanus per via delle querce che lo popolavano e solo in seguito Celio, da Celio di Benna, condottiere etrusco alleato del re Servio Tullio, sesto e di Roma. Detto questo vale la pena di soffermarci prima di iniziare la nostra passeggiata alle case romane del Celio su questo antico portale a tutto Sestovi, ingresso dell'ospedale gestito da un istituto religioso. Una scritta incisa sul marmo ci avverte che l'opera fu fatta da Mastro Jacopo e da suo figlio Cosma. Questa firma ci riporta alla mente i maestri Cosmati, una famiglia di marmorari romani che per quattro generazioni operarono a Roma ed intorni dal XII al XIII secolo, architetti, scultori e decoratori, passati alla storia soprattutto per le splendide pavimentazioni, una originale fusione tra stile classico romano e bizantino. E siccome non siamo solo curiosi ma anche un po' pignoli, non sfugge quella O anteposta ad HC che sembrerebbe un refuso, un errore ortografico, in quanto la O dovrebbe stare in mezzo a formare l'aggettivo dimostrativo OC, cioè questa. Subito sopra l'arco inquadrato in un elegante edicola, un clip in stile bizantino, opera forse di maestranze siciliane che lavoravano presso la fabbrica di San Pietro, svela il nome e la finalità dell'ordine religioso. Si tratta dei Trinitari, ordine fondato da Giovanni de Mata, prete provenzale nel 1198, che nel 1209, anno in cui vanno datate le opere di cui stiamo parlando, si insediano al Celio e che hanno come missione la liberazione dei prigionieri. Pare che nella loro storia siano stati liberati circa 90.000 prigionieri, tra cui si ricorda Miguel de Cervantes, l'autore del Don Quixote. Ma oltre la storia e lo stile, ciò che fa riflettere è la magnifica sintesi del mosaico, che rappresenta un Cristo seduto sul trono che con una bilancia tiene tra le mani il braccio di uno schiavo bianco e di uno schiavo nero, uno cristiano e l'altro no. E con uno sguardo che non ammette repliche, ci ammonisce a liberarli, perché essi hanno varie dignità e il valore di una vita vale quanto l'altra. Cambiano i tempi, ma le questioni restano. Per imboccare il crivo di scauro, dobbiamo attraversare il cosiddetto arco di Dolabella e Silano, un arco di travertino risalente all'anno X, che sostiene l'acquedotto neroniano, costruito successivamente, ma che secondo gli archeologi costituiva una porta delle antiche mure serviane restaurate in età repubblicana, per via del tufo che si intravede al di sotto del muro di mattoni. Tufo proveniente dalle cave di Grotta Oscura e databile intorno al 378 a.C. Questa porta è stata identificata dagli storici come la Porta Celimontana e noi la attraversiamo, portandoci sul clivo di scauro. Una delle poche strade romane è rimaste pressoché intatte nel suo percorso che deve probabilmente il nome al console Marco Emilio Scauro, che la fece costruire o sistemare intorno al 110 a.C., quindi in età repubblicana. Un fugace sguardo alla chiesetta dei Trinitari San Tommaso in Formis e arriviamo nel piazzale della chiesa di San Giovanni e Paolo, un edificio intitolato a due santi fratelli martirizzati durante il periodo dell'imperatore Giuliano l'Apostata. Antichissima è la sua origine. Fu edificata alla fine del IV secolo, ma costruita su una domus ecclesie, così si chiamavano le case private destinate al culto cristiano, per volontà di un nobile, Pammachio. Le vicissitudini del tempo hanno cambiato la struttura interna con restauri settecenteschi, mentre l'esterno è stato restaurato ricostruendo l'antico porticato ducentesco e l'antica facciata. Rimane il campanile, costruito da Papa Pasquale II. Certo, una domanda sorge, come si dice, spontanea. Come mai il campanile viene costruito così lontano dalla chiesa? Probabilmente la risposta sia guardando in basso, dove si intravedono i resti massicci di un tempio pagano. Quello dedicato all'imperatore Claudio, che dal Medioevo diventa la base di costruzione di edifici che ancora resistono nei secoli. Non è una novità. Basti pensare al teatro di Marcello, ma mentre questo è sotto gli occhi di tutti, quello rimane nascosto, misteriosamente nascosto agli occhi del viandante. Costeggiando il muro della chiesa e osservando le arcade medievale, arriviamo all'entrata delle case romane. Il complesso, già nell'antichità oggetto di scavi, se non altro per reperire materiale murario, fu interessato a partire dal 1887 da perlustrazioni più approfondite, dirette da padre Germano da San Stanislao, al secolo più modestamente Vincenzo Ruoppolo da Vicacuense, che durarono quattro anni, per poi riprendere nel 1909 dallo stesso affiancato dal confratello Lamberto Budde. Poi quasi più nulla fino al 1951, quando l'archeologo Adriano Prandi operò scavi sistematici, che oggi ci consentono di visitare le case. Nel complesso si possono distinguere più fasi abitative. All'inizio del secondo secolo esisteva una domus, una casa signorile a due piani, ma nel terzo secolo, di fronte alla domus, fu costruita un'insula, un isolato dotato di bottega al piano terra e appartamenti ai piani superiori, destinati a unità abitative economiche. Tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, l'intero isolato fu trasformato in una nuova domus signorile, fino alla costruzione della sovrastante basilica del senatore Pammacchio, rendendo inabitabile la domus. Salva alcuni ambienti, come l'oratorio del Salvatore, dove era presente una rappresentazione di Gesù tra arcangeli e santi martiri, databile intorno al IX secolo, oggi conservata nell'ambiente museale. Appartenente alla nuova domus del III secolo è la stanza detta dei geni, dai giovani alati presenti nella parte inferiore, vestiti dal solo mantello e incontornati da un festone carico di fiori e di frutti, mentre nella parte superiore i piccoli eroti raccolgono la frutta e il tutto è abbellito dai volatili, presenti ovunque, chi a farsi ammirare, chi a sbolazzare e chi a spiluccare, con un elegante effetto naturalistico. Altrettanto interessante è la stanza dei finti marmi, databile a cavallo del III-IV secolo, dove appunto grandi pannelli sulle pareti imitano un rivestimento marmoreo conosciuto come opus sectile, decisamente più economico, e nella parte superiore si intravede una raffigurazione di carattere naturalistico. Comunque consiglio per chi volesse gustare un'opera in opus sectile la ricostruzione in originale della sala di rappresentanza di una domus di Ostia, databile alla fine del IV secolo, che si trova ora esposta nel Museo dell'Alto Medioevo. Forse la più bella, in quanto si è mantenuta meglio nel tempo, è la cosiddetta aula dell'orante, per via di una figura femminile a braccia aperte. Anche qui si imita con l'affresco opus sectile a talabastro. Subito sopra, un freggio floreale formato da foglie d'accanto divide lo spazio superiore, dove nei vari riquatri, tra motivi floreari, maschere teatrali e sileni, appaiono animali fantastici, legati da una catenella. Prima di passare all'aula successiva, si può osservare un vicolo che, nato come stradina a cielo aperto, viene in seguito coperto in questo tratto divenendo un criptoportico e con la costruzione della domus che riuniva i due isolati un vicolo cortile, elemento di collegamento tra le due ali della nuova casa. La sala successiva, conosciuta come la sala della confessio, potrebbe ritenersi un oratorio cristiano o una confessio, cioè un luogo dove venivano conservate le reliquie dei santi. Gli affreschi varietali, infatti, rappresentano scene di martirio, con personaggi maschili e femminili ed è databile intorno alla metà del IV secolo. A seguire si accede nella sala chiamata il Ninfeo di Proserpina, che inizialmente era un semplice cortile a cielo aperto e solo nella seconda metà del III secolo viene trasformato in Ninfeo. La scena, che copriva tre pareti dell'ambiente, è posta in un contesto acquatico e vede, tra eroti impegnati in scene di pesca, tre personaggi, due femminili semisdraiate, una vestita con un pallio, un mantello e l'altra seminuda e uno maschile in piedi, mentre versa del liquido in una grande patera, una scotella utilizzata in genere per offrire bevande in sacrificio agli dèi. Diverse sono state le interpretazioni riguardo la scena rappresentata. Studi recenti hanno ipotizzato che il luogo di ambientazione sia da ritenersi il lago di Lucrino, situato nei campi flegrei, vicino a Baia, e il personaggio maschile sia la personificazione del Monte Gauro, dove si produceva un apprezzato vino bianco, mentre al centro siede Venere, che cinge le spalle a una nubenda, una promessa sposa, nel tipico abito flammeum, velo color fiamma e tunica bianca. Il tutto derivato da studi comparati con altri ritrovamenti di epoca imperiale. Nella sala attigua, tracce di pavimento a tessere bianco e nero, decorato con motivi vegetali e colombe, e risalente al II secolo. Per ultimo, la piccola sala dell'Antiquarium, dove tra l'altro sono conservate anfore di trasporto, reinvenute a seguito degli scavi. La collezione di piatti in ceramica di provenienza ispano-araba, bizantina e medio-orientale, che originariamente ornavano il campanile, in seguito sostituite con delle copie. E un piatto, decorato di vetro romano tarzantico, che dalla ricostruzione grafica rammenta una scena marina con temi simili all'affresco di cui abbiamo parlato. È tutto o quasi. Un saluto da VidLab. Grazie a tutti. Grazie a tutti.